Circa dieci giorni fa in Calabria c'erano di media ogni giorno quasi 3.200 casi, negli ultimi sette giorni invece siamo arrivati a 2.900, quindi si vede addirittura una leggerissima discesa, però sono variazioni rispetto a un andamento medio molto stabile che non sono significative. Non ci dovremo meravigliare se nei prossimi giorni si continuasse a scendere, in previsione però del periodo di Pasqua in cui ci rincontreremo di nuovo e probabilmente la curva ricrescerà. Dovremmo abituarci a queste piccole mine ondate, anche perché il numero dei casi che osserviamo potrebbe essere sottostimato. In realtà in questa fase è stata la regione che rispetto alle altre ha sofferto maggiormente, mai questi numeri si sono osservati nella Calabria. Sicuramente dipende da noi, dai nostri comportamenti, questo va sempre specificato, lo avete detto anche voi nel servizio, non dobbiamo abbassare la guardia. Appena si abbassa la guardia purtroppo il virus continua a circolare molto rapidamente perché la variante Omicron 2 è ancora più contagiosa della precedente, ma per fortuna solo una piccola quota di questi casi si tramuta in ospedalizzazioni che comunque in Calabria stanno salendo e si attesteranno tra circa 380-400 posti letto occupati nella fase peggiore del picco che si sta avvicinando. Non c'era alternativa, bisogna tornare a una normalità di convivenza con il virus mantenendo però l'attenzione alta. Sono i comportamenti che faranno la differenza, soprattutto nel periodo pasquale.